buongiorno sono alessandro marconi pips fishing vediamo di fare la consueta analisi e aggiornamento dei grafici daily con il nostro solito template a doppia banda apriamo subito vediamo un attimo ok a posto allora possiamo andare sul grafico e tanto dovreste già sapere che cosa contiene comunque se la prima volta poi dopo aver visto questo video cercate i video precedenti dove spiego anche gli indicatori cosa cosa mi cosa mi comunicano allora euro dollaro partiamo subito da principali cambio vediamo intanto cosa avevo scritto possibile ritorno verso area 1 e 21 80 poi scornare basso e come ho visto come ho detto nel video di sabato 6 scorso vediamo di non sbagliare ok sabato 6 dove ho fatto questo il video solito con questo template chiaramente queste sono candele daily quindi 5 candele valgono una settimana per cui questo questo questa notazione l'avevo già scritta da un po di tempo prima che arrivasse qua il sabato 6 avevo verificato che effettivamente la chiusura melava fatta proprio a 21 80 spaccato praticamente anche se questa spike ha presso probabilmente un bel po di stop perché vedete qua l'area di resistenza e ben visibile lavoro segnalata con la banda colorata già da da settimane e l'ha rispettata bene però è andata a fare una spike la candela e ha fatto scracere probabilmente di scoplos e poi tornata giù a bomba e vedete che il rsi era era al massimo era sulla parte superiore avevo messo la freccia e puntualmente il grafico mi ha dato retta e a affondato ora qui avevo messo questa trend line che non ha rispettato però va bene non è un problema ora si è fermato si è fermato ha fatto la chiusura della settimana qua esattamente a 1 19 50 vediamo se se 51 ci vabbè qui c'è lo spray lo spread 1 19 50 comunque la visione è chiaramente a ribasso chiaramente a ribasso sia per la dinamica degli swing che a parte questa leggera divergenza ma neanche perché questo è un doppio massimo lasciamo perdere la sparata come livello di chiusura questo è un doppio massimo e poi ha fatto i minimi decrescenti per cui il grafico ci dice che vuol continuare a scendere potrebbe anche la prossima settimana andare a crescare questa trend line qua che magari come aria come aria orizzontale se voglio aggiungere cene una mi può balzare un po all'occhio questa però a questo punto di solito il prezzo va a vedere i minimi massimi più vicini per cui si può si può anche fare un discorso del genere e considerare questa una fascia di di freno della discesa di rallentamento della discesa però qui la visione è totalmente al ribasso poi andiamo avanti euro gbp euro gbp anche sabato ho detto c'è poco da fare solamente cell e ora ha fatto la settimana in cell però le ultime candele vedete venerdì giovedì e anche mercoledì praticamente si è fermata la discesa abbiamo la forza la forte la bar le barre di forza che stanno salendo per cui qui attenzione questo è il rapporto ricordo anche se non ce n'è bisogno fra la scherlina e l'euro raffrontate ambe due con con il dollaro e qui potrebbe fare un ritorno un ritorno dato più probabilmente a debolezza di di scherlina piuttosto che forza di euro ecco però qui potremmo fare un ricracciamento un pochino più più profondo rispetto a questa unica candela che lascia il tempo che trova poi euro yen euro yen si sale e basta per ora avevo messo sabato scorso un possibile obiettivo questo che 130 e 09 130 10 me l'ha superato andato sui 130 e 32 a chiudere proprio vedete ha chiuso in fase di spinta quindi qui vuol dire che c'è ancora benzina che vuole bruciare e spingere il prezzo ancora più in alto e vediamo se trovo al volo un altro riferimento questo l'avevo messo qua e infatti c'è arrivato ora beh spostiamolo direttamente spostiamo direttamente a questo punto vista vista la forza mettiamolo a 131 facciamo 132 pari pari 132 tanto siamo lì a questo punto non mi scandalizzerei se arrivasse sui 132 poi li vediamo un po come come si comporta deve fare una figura e 80 e 70 pips circa 170 pips non è un problema disco come non è un problema a riuscirli a fare in una settimana qui siamo totalmente a rialzo euro audi audi invece siamo totalmente a ribasso forza negativa rsi nel mezzo questo nome non mi aiuta comunque non è in un punto di eccesso come poteva essere qua sotto o qua sopra in cui il prezzo ha reagito quindi qui si può continuare a scivolare verso il basso senza problemi ancora ancora più un po euro card qui c'è poco da dire vediamo più più che altro se posso trovare un nuovo nuovo target a certo bello questo non lo vedo subito il target questo template fenomenale perché aiuta anche a mettere i supporti vecchi in un attimo in un attimo eccolo qua io lo metterei intanto qua anche facciamo qua sulle chiusure invece che proprio sul sul massimo di questo gruppetto qua su questo gruppetto di chiusure siamo a livello ora ve lo dico un attimino ingrandiamo se no non ci si vede 147 50 147 50 ci siamo fermati a 149 anche qui un paio di figure però vista la forza che che ha di scendere c'è anche vicino quindi totalmente al ribasso anche qua poi passiamo alla sterlina qui si fa presto sterlina è rimbalzata da questo ex resistenza scambio di ruolo diventato un supporto tutto come da analisi tecnica classica e qui siamo ripartiti a rialzo solo venerdì c'è stato la candela che ha chiuso anche leggermente più in basso dell'apertura della precedente però sinceramente finché il prezzo mi rimane sopra quest'area di ex resistenza qua io cercherei una ripresa di forza perché come probabilità io ci vedo più una continuazione di rialzo piuttosto che una un'inversione non ho elementi per dire che in corso un'inversione se qui il pezzo è tornato un po giù però guardate da dove era partito in salita per cui ripeto io cercherei magari con entrate a scalare magari facendo qualche piccola mediazione però sempre stando attento al totale del rischio che non deve mai fuggire di mano sfuggire di controllo però cercherei a limite anche sapete che vi dico anche mettendo qualche ordine pendente se uno non vuole rischiare subito aspettiamo magari che il prezzo ricordi in quest'area ci mettiamo dei bei by limit così se scende mi accende l'ordine verso l'altro by e poi se riparte a bomba noi siamo già dentro con un minimo di rischio io forse la meglio il meglio consiglio che vi può credare e fare così poi andiamo sterlina contro viene viene debolissimo anche qua la sterlina lo sta massacrando e sta continuando a salire c'è poco da a fare questo livello me l'ha bucato alla grande siamo sui 151 vediamo velocemente se trovo un beh qui non è molto facile un nuovo card che io l'avevo messo qua bisognerebbe spingersi un pochino indietro beh facciamo ma ma gli scremi scremi rimedi questo si prende si alza alziamolo alziamolo qua siamo un po' ambiziosi mettiamolo un pochino bisognerebbe ecco l'ho trovato allora vedete qua che corrisponde a questo massimo anzi a questa chiusura questo è una fascia una questione che male perché troppo è troppo compatto compresso il grafico però io intanto metterei il prossimo target qui al solico io faccio un passo alla volta non mi piace mettere target troppo lontani siamo comunque 154 154 e 60 circa anche qua mi sa che abbiamo siamo quasi sui 152 un paio di figure da da poter coprire e agevolmente se non non cala la forza di questo cross andiamo sul gbp chf schesso discorso si sale qui siamo un pochino più sporchi c'è l'avevo già segnalata mi sembra addirittura sabato scorso questa pericolosa divergenza fra rsi e prezzo quindi qui bisogna stare un po attentini perché non è escluso che la rsi tiri giù un po il prezzo e li faccia fare un ricracciamento per cui io non entrerei ora long su questo cambio poi andiamo il gbp card qui dunque continuazione by questo è un appunto vecchio poi il prezzo qui è sceso e questo non è bello qui c'è quest'aria bella di scambio di ruolo rossa rosa e prezzo ci sta ci sta andando piuttosto velocemente e quindi io direi che qui siamo sotto questa fascia di resistenza per cui a questo punto ci metterei una continuazione ma non vai ma sell sell verso chiaramente l'aria l'aria colorata di di supporto quest'aria qua 171 e 87 172 perché veniamo da un trend da un trend positivo anche se questo grafico vedete che non è che parte in basso e finisce in alto fa tutti questi queste onde per cui è più più difficile a un po a un po capirlo degli altri di altri precedenti poi cosa c'è da osservare che qua siamo anche al limite inferiore della banda sulle rsi per cui qui c'è totale forza ribassisca però una banda che esce troppo dal una rsi che esce troppo dalla banda potrebbe anche far rimbalzare il prezzo come è successo in questo caso quindi anche se l'aria qua sinceramente la vedo molto attrattiva per com'è la dinamica attuale per il movimento del prezzo ok andiamo su dollaro usgjpy qui si sale dollaro forte contro il povero yen e si continua a salire qui avevo fatto uno studio di lunghezza dei cicli però qui si è invertita un po la situazione per cui facciamo così togliamo questa questo potrebbe essere un ciclo vabbè non ho voglia di misurarlo ragazzi anche perché il template dedicato a cicli è un altro su cui penso farò un video domani domani e questi sale ancora si era scesi di parecchio per cui qui abbiamo parecchi diversi riferimenti quello più vicino che vedo è questo questo massimo anche se non è segnato praticamente da questa punta sola recente non è che mi fa impazzire la vera area di massimo è qua su però possiamo anche metterla intanto perché mi sembra che la forza di di proseguire la salita ci sia per cui noi ci portiamo avanti con il lavoro e facciamo così 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 ok e poi qui siccome è una fascia di prezzo importantina ci mettiamo anche ci mettiamo anche un bel colorino così quando ci arriva ce lo ricordiamo di stare molto attenti quindi è un po di strada deve farlo farlo il prezzo però non è che sia chissà chissà dove ok e poi usb card qui siamo con il card legato al petrolio che ha ripreso a salire siamo siamo a favore di card poi con i dati anche dell'altro giorno in settimana il card ha ripreso molta forza e scattirando giù con decisione grafico ha rotto anche questa resist questo supporto facciamo lo stesso giochino di vedere un altro possibile target ma si se c'è se lo vediamo è perché non è detto è perché che qua siamo un po a vabbè qualcosa si trova ma bisogna andare fino al 2017 attenzione 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 questo lo lasciamo magari può servire se fa un rimbalzo e a questo punto scendiamo scendiamo a quest'aria qua dai quest'aria qua eccola qua siamo a livelli di appunto 2000 inizio qui forse siamo al 2018 il primo febbraio 2018 questa punta qua quindi siamo tre anni fa comunque il minimo c'è noi l'abbiamo già messo non è anche questo neanche lontano quindi ci potrebbe arrivare in una settimana penso una settimana se qui c'è di questo pezzo di scraga qui lo fa velocemente siamo totalmente negativi quindi anche qua si continua a scendere usg chf che è il contrario spesso di euro dollaro euro dollaro abbiamo visto che eccolo qua dovrebbe rimbalzare finire questo piccolo swing riprendere a scendere di contro usg chf ha fatto il contrario e ora è impostato per per la salita appoggiandosi anche eventualmente un altro pochino di discesa su questa fascia di ex resistenza che dovrebbe diventare un supporto quindi qui aspettiamo che scenda un po mettiamo come ho detto nell'altro grafico a limite qualche ordine pendente di tipo by limit aspettiamo che torni un po più giù se poi invece riprende a salire subito vabbè quello valuteremo andiamo su audi vsd qui siamo in laterale possibile rientro in lateralità e l'avevo messo qua sotto effettivamente qui ha rimbalzato sul bordo potremmo anche provare se proprio vogliamo fare qualcosa su questo cambio di considerare lo stop loss fuori da dal bordo superiore però attenzione attenzione perché ha già fatto un'escursione fuori poi è rientrata per cui io se ci volessi operare su audi usb metterei sì lo stop loss qua fuori al ribasso ma non certo una size grande perché potrebbe anche fare uno swing uguale a questo andare totalmente fuori qui la forza candele è positiva fra l'altro non è non è potentissima però da negativa è passata qui a positiva magari uno può aspettare anche un giorno due vedere come chiudono le due prime giornate della prossima settimana non mi sembra una cattiva idea nz di usb 21 minuti di registrazione si ce la faccio in mezz'ora qui analogo uguale uguale audi usb anche qua c'era quest'area di compressione c'è rientrato è rimbalzato sul bordo superiore quindi è un pochino più stretta nz dell'aria rispetto a audi usb che un pochino più larga però la dinamica del movimento è lo stesso escursione fuori rientro e cioè rimbalzo e poi rientro nell'aria qui però fare operazioni in quest'area stretta così lo ritrovo più più rischioso quindi qui lo lascerei attualmente proprio perdere a meno che come avevo segnato prima non mi faccia un paio di chiusure sopra sopra o sotto questa fascia allora qui si potrebbe provare a cavalcare la salita oppure la discesa che se partisse la discesa potrebbe essere anche abbastanza repentina e perché ad accoprire questa bella questo bello spazio la salita invece un pochino più limitata da questi massimi recenti comunque di aspettare qua poi passiamo al petrolio bucchiai e abbiamo insieme a loro e poi abbiamo finito qui c'è stato c'è questa divergenza è vero però il petrolio è tornato qua a salire un po forse non ce la farà a superare a superare il massimo perché l'rsi lo sta tirando giù e quindi attenzione a entrare ora long io aspetterei aspetterei un pochino di forza o di rottura o di rottura di di quest'area qua dei 67 95 ma facciamo 68 facciamo 68 oppure potrebbe anche rimbalzare in quest'area iniziare a fare una correzione petrolio un po particolare vedete che il movimento ha fatto fino a ora è uscito ha preso forza è uscito dalla dal borgo superiore delle due bande ora ci sta correndo sopra e prima o poi ci deve rientrare almeno rientrare all'interno delle banche almeno della fascia esterna quindi ecco perché non mi figo ora a riprenderlo long anche se negli ultimi giorni ha preso forza tanto più che come abbiamo visto prima l'usd card è stato è stato buttato giù ma oltre che dal petrolio anche dai dati del card più che altro quello ok quindi prudenza su questi massimi che sono molto vicini a 68 finiamo con il metallo giallo questo un pochino incasinato perché è vero che è di bassista però intanto venerdì a facco questa pin bar rialzisco oltretutto aperto qua e chiuso sopra quindi è un pin bar a martello quasi perfetta e quindi qui vorrebbe dire che riprendo un po di valore il loro e non sarebbe non sarebbe impossibile perché ha fatto questa bella fase di discesa non è molto molto pulito vedete qua è andato è andato giù sotto questa area di supporto la recuperata facendo questa specie di bandiera anche se non è proprio precisa ha rotto la bandiera è sceso di colpo beh io qui una correzione un pochino a rialzo per tornare in sotto l'area dei 1800 e 1800 via prudentemente andiamo nell'ora siamo a 1728 circa miriamo ai 1800 per fare una cifra una cifra tonda 1800 che sarebbe qua quindi io qui non non entrerei attualmente al al ribasso anche se la la tendenza ora e ribassi sca però scade un pochino attento perché mi sembra che abbia voglia anche con il movimento dell'ultima settimana 1 2 3 4 5 quindi lunedì a facco la candela rossa poi martedì mercoledì giovedì e venerdì e qui potrebbe se rientra sia la forza di rientrare nel canale perché qua c'è il canale disegnato la parte inferiore potrebbe recuperare un po di valore ok e ho finito anzi finisco con un grafico che vi ho fatto vedere l'altra volta sarebbe fibonacci ext un attimo guardo se va bene si è questo è il petrolio petrolio bucchiai con fibonacci dove già da un mese forse anche pochi più avevo tracciato questo questo fibonacci partendo dal 100 qua e lo 0 qua e quindi con le estensioni ora è arrivato esattamente alla 138 e due eccolo qua la proprio toccato con precisione e quindi vuol dire che come l'avevo come lo avevo caricato aveva un senso e ora appunto vediamo un po siamo su questi massimi anche e quindi potrebbe come ho becco prima fare un ricracciamento attenzione almeno finché non ripeto finché non rompi 68 dollari a cercare long che potrebbe non aver la forza di di fare e di proseguire la sua corsa ok io ho finito ho finito e vi do appuntamento al prossimo video e spero che sia stato di vostra utilità un saluto da alessandro pips fishing